Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi. Circa 10.000 botti di Capodanno per un peso totale di oltre 5 quintali di materiale pirotecnico sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a tre grossisti che operano tra il distretto industriale Fiorentino del Los Mannoro, nel comune di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Denunciati i tre responsabili, tutti cinesi, per violazione dell'articolo 678 del codice penale. I botti erano conservati con modalità non sicure perché si trovavano vicino ad altro materiale altamente infiammabile. E sequestrati invece dalla Guardia di Finanza di Siena circa 14.000 articoli natalizi ritenuti non conformi alle norme di legge perché con etichettatura assente o marcatura c'è irregolare. Tra gli articoli sequestrati anche giocattoli destinati ai minori di 14 anni, articoli decorativi e luminarie natalizie commercializzati sul territorio nazionale. Il materiale è stato rinvenuto in tre esercizi commerciali, uno del capoluogo senese e gli altri due della Valdelsa, gestiti da cinesi che sono stati segnalati alla Camera di Commercio. Irrogate sanzioni amministrative per un importo pari a 14.000 euro circa. E una bisca è stata scoperta dalla Guardia di Finanza in un bar-ristorante allo Smannoro, alle porte di Firenze. Quattro le persone denunciate, tutti immigrati, risultati anche non in regola con il permesso di soggiorno. La bisca è stata scoperta dalle fiamme gialle nel corso dei servizi di controllo economico del territorio. E sono intervenuti i carabinieri la notte scorsa a Fiesole, alle porte di Firenze, per soccorrere un 51enne disabile che si era ribaltato con il Quad in una strada sterrata, in una zona boschiva. A dare l'allarme lo stesso 51enne, non in grado di riprendere la marcia e nemmeno di allontanarsi, si è poi ritracciato da un equipaggio del nucleo radiomobile di Firenze, dopo aver individuato la sua posizione tramite una nota applicazione di messaggistica istantanea. L'uomo, infreddolito e spaventato, è stato poi affidato alle cure del personale del 118. Presidi oggi a Firenze e Pisa per protestare contro l'arresto di Nicoletta Dosio, la 73enne passionaria Notav, da ieri in carcere in seguito a una condanna a un anno di reclusione. A Pisa la manifestazione è stata promossa da USB in Piazza 20 Settembre e a Firenze il presidio è stato organizzato davanti alla Prefettura, tra i partecipanti consiglieri comunali di Sinistra, Progetto Comune, Antonella Bundu e Dimitri Palagi. Stava sciando quando ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e quindi in un torrente. È accaduto alla Betone, nella montagna pistoiese, a una ventenne residente però a Firenze, soccorsa poi dalla polizia. Nell'incidente ha riportato la frattura di clavicola e spalla. Trasportata in ambulanza fino al punto di atterraggio di a Betone, è stata prelevata dall'elisoccorso Pegaso e portata all'ospedale Fiorentino di Careggi. Due ragazzi, ancora minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, dopo che ieri hanno provocato un ritardo di ben 40 minuti a un bus che da Firenze era diretto a Bibbiena, provincia di Arezzo, rifiutandosi di esibire il biglietto di viaggio e il documento di identità. I militari sono intervenuti in Viale Fratelli Rosselli, dove si trovava il pullman di Bus Italia, partito dal capolinea di piazza Santa Caterina da Siena con a bordo i due ragazzi. Hanno tentato di derubarlo dell'orologio di marca Piguet, che aveva il polso messo in fuga però dalle urla dell'uomo, un settantenne e dal titolare di una concessionaria d'auto. è accaduto ieri pomeriggio alla periferia di Firenze, dove poi è intervenuta la polizia. Il settantenne si trovava nel posteggio all'aperto della concessionaria, quando è arrivata una moto con due uomini, uno dei quali è sceso e dopo essersi avvicinato a una vettura, ha poi raggiunto l'anziano. Il 2020 si apre all'insegna dell'arte con un lungo fine settimana inaugurato dalla Domenica al Museo, il 5 gennaio, con l'ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici dello Stato e dei tanti comuni che aderiscono all'iniziativa. Lunedì 6 gennaio si terrà poi l'apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali, in occasione dell'Epifania, con i consueti orari e tariffe. Per la prima domenica gratuita del nuovo anno, la campagna digitale del MIBACT sarà dedicata alla seconda edizione di Fumetti nei Musei, in mostra gratuitamente per il periodo delle festività all'Istituto della Grafica di Roma, mentre una calza speciale scelta tra le opere conservate nel Museo della Pubblica Salce di Treviso segnerà sui social l'apertura straordinaria dei musei nel giorno della Befana. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani, in Toscana in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti durante la notte, in serata però su costa centrale e arcipelago. I venti deboli o assenti nell'interno, deboli moderati settentrionali in arcipelago e sulla costa centro-sud. I mari poco mossi o localmente mossi a largo. Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi e sui rilievi. Ancora gelate nelle pianure dell'interno. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti e buon anno!